Mancano meno di quattro mesi all'inizio dell'Universiade Napoletana e nonostante i messaggi di tranquillità sulla buona riuscita dell'evento che arrivano da più parti, comune, regione e comitato organizzatore, ad oggi di certezze ce ne sono ben poche. Non è ancora stato stilato un piano sicurezza e antiterrorismo, manca l'elenco ufficiale delle strutture ricettive che accoglieranno atleti, arbitri e delegazioni, le strutture sportive sono ancora cantieri aperti e manca anche la mascotte dell'evento, il che significa per ora niente merchandising, niente promozione su social e siti internet, nessun abbigliamento brandizzato così come è stato per le precedenti edizioni. Il commissario Basile su questo aspetto precisa. Ci sono varie idee e tra l'altro è un concorso che è partito anche con un altro commissario quindi stiamo seguendo un percorso completamente diverso ma vogliamo fare bella figura con la mascotte. Ho detto spesso che uno dei momenti importanti oltre a quello sportivo è quando ci sarà l'ufficializzazione a chi sarà attribuita la direzione artistica della cerimonia di apertura e di chiusura e in quell'occasione saremo pronti anche per lanciare mascotte e torcia perché è previsto. In attesa di certezze anche lo stadio San Paolo. Illuminazione e bagni sono al momento le uniche cose che sono state messe a posto ma ci sono tanti lavori ancora da iniziare a partire dalla sostituzione dei sediolini passando per parcheggi, aree ospitalità e spogliatoi. Stesso discorso vale anche per gli altri impianti della città metropolitana che saranno interessati dalle gare. Basile prova a gettare acqua sul fuoco. Ci saranno i sediolini, ci saranno gli impianti riqualificati e soprattutto ci saranno i giovani di tutto il mondo che avranno la possibilità di apprezzare la nostra terra e la nostra cultura.